il buon fabio andiamo a vedere chi c'è il nostro nuovo 259 eccolo qua buongiorno un elemento che solo noi ce l'abbiamo il nostro fame a tutti dobro e utro il russo quindi abbiamo il russo l'italiano e napoletano e in veneto dobro e in veneto buongiorno come ti stai trovando qua da noi ci sto trovando benissimo ci vediamo anche l'anno prossimo ci vediamo anche l'anno prossimo l'ambiente è bello il tempo è venuto oggi l'ambiente è di più che bello eccezionale è da consigliare a quelli che vogliono segnale a tanti pelotti che fanno fatica magari a girare un altro campionato qua tutti una volta al mese e ci c'è sempre la gareta da parte perciò non hai male io mi diverto a sei con questo ragazzo qua che è arrivato adesso così ai fretta e furia è venuto per dirti di andare più piano piuttosto che è venuto per dirti ci divertiamo anche oggi si ha detto bisogna sgonfiare un po' di gomme per andare più forte ma va forte oppure è fortunato non è fortunato lui è un altro che però non è che va piano quindi ragazzi finite giocate divertite ma quando è ora giù la visiera e grazie a Martello e andiamo perfetto grazie a tutti Grazie.